E' scattata oggi l'ordinanza anti-smog che limita per 30 giorni la circolazione a tutte le auto a benzina e a diesel sprovviste delle certificazioni Euro 3 ed Euro 4. Troppi sforamenti in città e scatta il disco rosso per le auto inquinanti che rappresentano il 20% circa del parco auto circolanti ad Avellino, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 fino alle 19. Oggi partenza soft, poche multe, molte informazioni per i pochi automobilisti in macchina visto il ponte del primo maggio. Ma sono stati tanti anche i cittadini disorientati che hanno chiesto informazioni agli agenti della Municipale Sistemati ai Varchi. Non ero informato bene di questa cosa. Però trovi che questa ordinanza sia giusta, sia sbagliata, questo bloccare comunque le auto molto vecchie? Sì, penso sì perché comunque c'è molto inquinamento, quindi penso sia una cosa abbastanza buona. Ma da mercoledì la situazione cambia con il ritorno a scuola degli studenti e la riapertura dei molti uffici chiusi per il ponte. E in città i cittadini sono divisi, tra chi invita tutti a camminare a piedi e chi invece vede nell'ordinanza l'ennesimo colpo al commercio in un capoluogo in affanno. Non è l'inguinamento, sappiamo come a Tarno, a Lima, chiudiamo la fabbrica e campano tante persone, chiudiamo la perdita di lavoro, si campano di ario o di fame. Qua fra dieci anni si fa la guerra della fama, perché chiudono tutto. Il problema, ma questo riguarda più noi della città o soprattutto del centro, la macchina va presa solo in casi di spostamenti lunghi. Bisogna entrare nella mentalità che la macchina va presa solo per spostarsi da un paese all'altro, ma tra l'altro oggi è una giornata così bella. Grazie. Grazie. Grazie.